Mi trovo nella villa Peripato di Taranto, in una delle tante zone buie, assolutamente abbandonate, un buio pericolosissimo. Ci sta dando un po' luce il faro della telecamera. Vedete, mi sono candidato sindaco a Taranto con il movimento Taranto senza Ilva, trasversalmente ai partiti, né centrodestra né centrosinistra nel Movimento 5 Stelle, proprio per contribuire a risolvere, oltre alla questione ambientale, anche la vivibilità urbana. È inaudito che in un polmone verde di Taranto, nella più bella e più significativa villa di Taranto, si vive in queste condizioni con dei pericoli enormi inerenti alla sicurezza. Il buio purtroppo incentiva il crimine, incentiva vari atti che purtroppo si sono verificati. Penso ad episodi di delinquenza, a furti, a scippi, a rapine, anche a casi purtroppo di tentata o consumata violenza sessuale. Guardate, sembrerebbe di stare nella selva oscura di Dante Alighieri. Guardate qui il buio e, ripeto, è il faretto che stiamo a intermittenza accendendo e spegnendo per farvi vedere lo stato in cui si trova la villa. Pare che qui ci sia un astento uno o massimo due vigilanti, ma uno mi risulta. E quindi ovviamente il fatto che non ci sia un personale sufficiente, disposto evidentemente dall'amministrazione comunale con un rapporto di convenzione, fa sì che la sicurezza sia assolutamente a rischio. Mi diceva un operatore del servizio di sicurezza qualche tempo fa, noi abbiamo paura perché di notte il fatto stesso che stesse solo lui, solo una persona, a presidio di tutta la villa, pensate un po' cosa gli potrebbe succedere. Nulla ci vuole che un malintenzionato scavalca, entra e può fare di tutto di più. Un uomo solo, ripeto, un uomo solo per tutta la villa. Hai capito ex sindaco Melucci? Un uomo solo per tutta la villa e a rischio la pubblica incolumità di questo povero disgraziato che deve salvare la vita, che deve portare il pane a casa, che non ci deve rimettere le penne. E poi scusate, a quest'ora, anche se uno si fa un giro, dove sta scritto che deve vivere, deve passare una persona, visto che la villa è aperta fino alle 11 di sera? Dove sta scritto che ci deve essere questo stato di buio assoluto? Dove si è mai visto? In quale città italiana? E tu Melucci cosa dici? Di essere stato il sindaco che ha seminato la rinascita? Quale rinascita? Questo è il buio, il buio fisico che rappresenta il buio della tua amministrazione di 4 anni e mezzo, di assoluto buio. Buio amministrativo, buio, buio e buio. Quali sono i risultati che hai prodotto? Una villa che dovrebbe essere il polmone, il fiore all'occhiello di Taranto. Come l'hai amministrata? Col buio? Ma cosa ci vuole a fare una convenzione con il servizio di sicurezza e potenziarlo? Cosa ci vuole a mettere, a potenziare i pali della pubblica illuminazione? Tanto ci vuole? Tanto ci vuole ad aumentare un po' di pali della luce? Tanto ci vuole a far sì che ci sia più personale? Questo è l'ABC, l'ABC dell'amministrazione di una comunità. Ci stiamo proprio facendo vedere, il nostro operatore sta operando appunto nello spegnere e accendere il faretto della telecamera per farvi vedere il buio. Se ora c'è un po' di luce è dovuto alla telecamera, ma questo è buio, buio. Lo ripeto, l'operatore che da solo sta nella notte, da solo, da solo, fatto gravissimo, fatto gravissimo. I rischi, una ragazza, una persona anziana, ma qualsiasi persona, anche una coppietta, due amici, due amiche che si vogliono fare due passi. Ma passa loro la voglia di stare qui, perché subentra il terrore. Questa è la sicurezza. Ecco perché, caro Melucci, tu che dici di aver seminato la rinascita, Taranto sta agli ultimi posti della qualità della vita in Italia e questo è una spia di questo stato di degrado, di malessere della città. Io mi candido sindaco perché voglio invertire la rotta, perché si possono fare, si può dare luce a un polmone verde con poco, con poco. Questo deve saper fare un sindaco, questo deve saper fare l'amministrazione comunale. Non chiediamo chissà che cosa. Non abbiamo chiesto di fare una fontana, chissà, megagalattica nella villa. Ma, Dio santo, un po' di luce la puoi dare? Aumentare il numero del personale lo puoi fare o no? Ecco perché, caro Melucci, verrai bocciato alle prossime elezioni. Ecco perché mi presento con la mia storia, con il mio impegno, con le mie battaglie quotidiane sulla vivibilità e sull'ambiente che faccio da 20 anni. Lo posso dire ad alta voce, lo posso dire ad alta voce, alla luce, scusate il bisticcio di parole e il contrasto tra i due termini, alla luce del mio impegno rispetto al buio amministrativo dell'amministrazione Melucci. Meditate, cittadini! Meditate!